grande successo per il chubby bunny abbiamo l'ottava concorrente che non conosco minimamente come ti chiami? Giorgia, grandissima e la seconda quota rosa dopo Clio per vedere a quanto arriviamo e quindi cominciamo Clio lei eh? un chubby bunny devi dire, un chubby bunny, benissimo due chubby bunny, ti conviene farti spazio nel negozio, la strategia per ora è qui eh non devi mangiarla, la prendi tutto il tempo che vuoi tre chubby bunny, lo cambio di colore quattro chubby bunny l'ho sentita qui in divano che sarebbero sei, spingi, spingi, ma questo è quinto ma conta uno e mezzo, ah giusto scusa sei chubby bunny che sarebbero sette chubby bunny, buonissimo, buonissimo il fatto che tu sbavi non è un problema, puoi andare a dritto, stai tranquillo spingi, non te ne fate un problema, guarda in terra, concentrati su ciò che vuoi lo sai quella volta che mi ha detto? 8 chubby bunny quindi sono 8 e mezzo, con questo andiamo a 10 avevano questi che stavano a scavigliaio e gli ho detto, ascolta, vuoi fai qualcosa per il mio non si è capito, non è? sì, una volta non ce la fa prima non è questo? mi sembrava ottima, mi sembrava ottima brava, brava eeeh